e poi via nome cognome vai presentati adoro mi chiamo adoro di lugia vengo da volumia faccio frutti bene con frutte e verdure sei sposato con viva con viva con chi con chi la femmina è tua che fa la tua femmina nella vita che fa la tua femmina sta a casa o va al lavoro cucina bene la moglie cucina bene tua moglie buono ti voglio bene se io vengo ti devo dare io un bacio appassionato bravo le faremo sapere